Di questo e altri problemi di ordine pubblico si occuperà il nuovo prefetto di Bologna, Tilio Visconti, che è in diretta per noi con Francesco Rossi. Sì, grazie, buongiorno. Siamo qui col nuovo prefetto di Bologna, Tilio Visconti, appena insediatosi. Proviene da Brescia, dove ricopriva il medesimo incarico. Minacce, insulti, danneggiamenti ad opera di Novax, un copione già visto e che si ripete. Come giudica il prefetto questi episodi? Deplorevoli e gravi innanzitutto. Io sono dell'avviso che bisogna sempre garantire a tutti il diritto di protesta e il diritto di contestare e di non essere d'accordo. Ma ogni azione di protesta o di disaccordo deve essere ovviamente un'azione civile mantenuta nei limiti della legalità e soprattutto rispettosa delle idee altrui. In questo caso noi abbiamo assistito a un episodio che tutti questi requisiti non ce li ha sicuramente. Ecco, perfetto. Restando alle cronache di questi giorni, risse, aggressioni in zona universitaria ad opera di giovanissimi. Si parla di una movida violenta. È un problema? Che cosa si può fare? Beh, la movida non è mai un problema. La movida è l'esternazione dei giovani che vogliono passare il loro tempo dopo aver studiato in compagnia, soprattutto perché penalizzati da due anni di crisi dovuta dal coronavirus e di lontananza. La ma la movida è il vero problema. Un problema che naturalmente affonda le radici in quella parte minoritaria degli studenti che trasforma i momenti di allegria in momenti ovviamente di danno, di dilittuosità e di controlegalità. Questa va assolutamente contrastata. Ecco, ha parlato di pandemia. Una delle emergenze legate alla pandemia è l'emergenza a casa che si sta acquendo. È sfratti, morosità incolpevole, sfratti. Lei vuole portare a Bologna un progetto già avviato a Brescia. Di cosa si tratta? È un modello sperimentato già a Brescia. È un tavolo sfratti che naturalmente interviene per garantire l'esecuzione della forza pubblica soltanto in quei casi in cui ci sia una morosità non addebitabile alla persona che non paga il canone d'affitto. Il tavolo ha anche lo scopo di garantire le situazioni di grande disagio e contemperare anche le possibilità di nuova sistemazione per le persone rimaste senza casa. Grazie. Grazie al prefetto di Bologna, Attilio Visconti. Linea allo studio.